Per fortuna il problema riscontrato nell'impianto di sollevamento vicino all'ex depuratore dell'annunziata Giulianova al ridosso della foce del fiume Tordino non ha portato nessun sversamento in mare. La conferma arriva delle analisi batteriologiche eseguite da due laboratori che la società acquedottistica della Ruzzoreti ha immediatamente richiesto a seguito della problematica. Tutta colpa di garze e stracci e altri materiali trovati nella condotta fognaria che ha portato all'improvvisa fuoriuscita di liquami. Purtroppo è accaduto che questi stracci, queste garze che sono state gettate all'interno della rete fognaria si sono avvolte intorno alle pompe di sollevamento e non le hanno bloccate, quindi gli allarmi non sono suonati, ma le hanno fatte funzionare in misura ridotta. Quindi il refluo è iniziato a uscire lentamente e per fortuna i nostri dipendenti hanno in questo periodo l'obbligo di fare dei sopralluoghi costanti presso i sollevamenti e quindi sono riusciti a intervenire in maniera tempestiva anche grazie poi alle segnalazioni degli abitanti del posto. La cosa che preoccupa è che si è formato un tappo perché le persone hanno buttato all'interno probabilmente dei water ciò che non deve essere mai buttato. Sì, permane un'assenza di cultura rispetto alla gestione delle rete fognarie nel nostro territorio e soprattutto da parte di tanti cittadini. Nelle fognature vanno veramente inserito il nulla sostanzialmente perché poi sono questi gli episodi che si possono verificare. La fortuna è stata che questo refluo non è arrivato fino al mare, sono di ieri notizie dell'analisi di campionamenti che abbiamo fatto e sono tutte assolutamente regolari per cui è stato sventato il danno ambientale. Poi l'intervento immediato con l'uso di enzimi e con l'autospurgo ha evitato sostanzialmente il peggio. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dalle sette bandiere blu, del fatto che le analisi ARTA dimostrino sempre un 100% di positività rispetto ad un mare pulito e assolutamente competitivo con altri mari italiani. Quello che dispiace è che poi succedano questi episodi frutto un po' dell'ignoranza soggettiva fondamentalmente.